Rilanciare il sistema museale abruzzese attraverso una nuova legge regionale che possa rendere il settore più competitivo, l'ha detto l'assessore Marinella Scrocco che ha incontrato i direttori dei musei per affrontare le problematiche del comparto. Per la prima volta, detto l'assessore Scrocco, è stato organizzato un incontro di questo genere. Tanti musei presenti, da quelli storici a quelli di nuova istituzione, segno del fermento culturale mai sopito. L'Abruzzo è un museo diffuso, aggiunto, conferma di ciò e il numero dei 183 riconoscimenti effettuate fino ad oggi dalla Regione, altri sono in corso di definizione. C'è merito del carattere degli abruzzesi, propensi alla conservazione e diffusione delle varietà, delle preziose testimonianze che ha ereditato e che contribuisce a rafforzare l'identità culturale della Regione. All'incontro hanno partecipato anche il dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali, Francesco Tentarelli, e il direttore del Centro Regionale Beni Culturali, Rosa Gianmarco, che ha proposto la realizzazione di un nuovo piano di sviluppo delle istituzioni museali regionali, al fine di superare le attuali criticità. Le nuove misure approvate dall'Assemblea dei Direttori riguarderanno una nuova legge in materia museale, con l'adeguamento della normativa regionale a quella statale, la creazione del sistema museale abruzzese, della rete regionale dei musei territoriali e di una moderna modalità di comunicazione comune.